buonasera oggi ci riproviamo oggi con maesche bibone congelato eccoli qui belli e poi coreano oggi tre canne in pesca due armate un po più pesanti come nitrave e longarmo col bibone questo è come a me piace innescare il bibone congelato andiamo a sotto fuori abbastanza innesco abbastanza generoso sarà 10 cm mettiamo da parte ora preparo l'alto poi ve lo faccio vedere ok ma signori ora qui ho fatto una sorta di caramella chiuso qua e qua la parte lunga che mi avanzava da questa parte che non l'ho voluto fa troppo lungo l'ho tagliato rivoltato praticamente qua si vede questa parte bianca e il bibi messo al contrario sopra di quella che c'è tutte queste fibre bianche che rilasciano l'odore quindi diciamo che secondo me è una cosa utile ok prepariamo anche questo solita misura dell'amo sto usando numero 3 allora signori vi volevo far vedere l'ultimo attrezzo che ho preso non vi voglio far vedere la marca così evitiamo di fare pubblicità praticamente è la custodia porta bobine utilissima c'ha 6 posti io oggi ne ho solo 3 perché ho portato solo 3 canne e praticamente cosa faccio le bobine che uso magari con lo shock me le tengo montate sul mulinello invece magari il diretto col 40 o col 35 in base a al mulinello per la pesca e serra o col vivo lo tengo separato quindi i bobini rimangono perfettamente al suo posto utilissimo è fatto in un tessuto che non entra nemmeno all'acqua e quindi questo è l'ultimo acquisto quindi Grazie a tutti. 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 Aspettiamo. Ho avuto una mangiata sul bibone, ma non c'è rimasto sul bibone. Quindi vediamo un po'. Signore, è ripartita la canna col coreano. Altra orata, questa è un po' più tardi. Signore, la pescata finita, la pescata finita, una ratella liberata, due le ho tenute per portarle a casa. Questa è la pescata, questa è la pescata, mi sono divertito, mi sono divertito, poco tempo, bisogna alzarsi presto per andare a lavoro, però dai, è andata benissimo. Quindi, un saluto, quindi, un saluto, buona serata a tutti.